Credo che sia gente che non ha mai vissuto un'emozione straordinaria come vivere e passare dalla città di Napoli, non sanno che si perdono e vanno avanti con affermazioni fuori dalla realtà e ovviamente sono risibili ma tesa la fonte non producono un danno alla nostra città. È grave che però si continui a dare una narrazione della città antistorica e soprattutto al di fuori della realtà che oggi Napoli sta vivendo, quindi un giudizio falso, superficiale da chi evidentemente non ha mai passato un giorno della sua vita nella città di Napoli. È una città piena di problemi ma sicuramente nelle classifiche del mondo non è collocata nel modo con cui il Sanna la vuole collocare.